Aspetto. Il pelo è abbondante, denso, diritto e piuttosto ruvido, fornisce un'ottima protezione insieme ad un sottopelo soffice e fitto. Capelli molto corti sulle orecchie, testa. Sul corpo, il mantello è di media lunghezza, aderente. Intorno al collo, il pelo è molto più lungo, e non aderente al corpo. A partire dalle orecchie, soprattutto nei maschi, ma anche nelle femmine, il mantello forma un collare, pelo lungo intorno al collo, acciuffi su entrambi i lati, una criniera, pelo lungo sulla parte superiore del collo fino al garese, e alle chiusa parentesi tonda, e un volant, peli lunghi nella parte inferiore del collo e del torace, che si estendono tra le gambe, e scompaiono gradualmente nella parte inferiore del torace. Il pelo lungo e soffice sul retro delle cosce forma i tipici pantaloni. La coda è ricoperta di peli della stessa lunghezza di tutto il corpo. Il colore è completamente nero. Il sottopelo può essere grigio scuro se completamente nascosto dal top coat. Il peso può variare da 3 a 9 kg. Il peso medio è di 4 luglio kg. Tratti distintivi del carattere. Lo skipper che è un meraviglioso cagnolino da guardia, eccezionalmente empatico, pieno di energia, timido con gli estranei. È attivo, agile, instancabile, costantemente interessato agli altri. Capace di mordere se qualcuno si avvicina all'oggetto che sta proteggendo. È molto affettuoso con i bambini, è sempre interessato a ciò che accade dietro una porta chiusa o un oggetto che si muove. Mostra reazione con corteccia stridula e criniera sollevata. Caccia con interesse ratti, talpe e altri piccoli animali. In Belgio questi cani sono chiamati piccoli capitani di chiatte. Skipper che, le cui origini sono state poco studiate, hanno servito a lungo come guardia di navi e barche fluviali. A volte gli equipaggi usavano cani intelligenti per cacciare conigli e selvaggina. I ragazzi coraggiosi si sono anche guadagnati la gloria di insuperabili combattenti di strada. In questi giorni sono riconosciuti come compagni, ma hanno bisogno di controllo perché sono battaglieri. Punti salienti e fatti interessanti. Lo skipper che è stato riconosciuto dalla AKC nel 1904, ed è la sua 55esima razza. Lo skipper che non deriva dal Pomeraniano Pomeranian, ma è in realtà una versione ridotta del pastore bianco, comunemente chiamato Leuvenar, che era solito seguire i carri attraverso le province belghe. Gli spedizionieri possono competere in una varietà di competizioni AKC tra cui esterno, obbedienza, agilità, rally e trekking. Skipper che è rinomato per la sua eccellente capacità di sentinella. Negli Stati Uniti, lo skipper che è una razza senza coda. Skipper che appare periodicamente nel film Club Brothers, e appare anche nel racconto di Davne Duma Orierte Frontiercase. Storia della razza. L'antenato comune del pastore belga, e dello skipper che, era probabilmente un'antica razza di piccoli cani neri chiamata Leuvenar. La storia di skipper che, inizia nel XVII secolo. Nel 1690, lo skipper che era il cane preferito degli operai, e dei calzolai del quartiere Sant'Gerri di Bruxelles. Facevano a gara tra loro, decorando i loro cani con intricati collari di rame. Le code erano completamente mozzate, probabilmente a partire dal XV secolo. La razza era conosciuta come cacciatrice di topi, ratti, talpe e altri parasiti. La prima mostra di skipper che, ebbe luogo a Spa nel 1882. La razza è diventata di moda grazie alla regina del Belgio, Maria Henriette. Fu portato negli Stati Uniti, e in Gran Bretagna nel 1887. Nel 1888 fu fondato un club di allevamento, e fu approvato il primo standard di razza. Lo skipper che club è stato il primo club di allevamento in Belgio. A quel tempo i tipi di cani di Anversa, Lovanio e Bruxelles differivano, e furono fatti notevoli sforzi per unificare la razza. È opinione diffusa che il nome skipper che significhi piccolo capitano in fiammingo, e che i cani di questa razza fossero usati in Belgio per proteggere le navi mercantili e le chiatte. Probabilmente ha avuto origine nei paesi di lingua inglese nel 1880 a causa della confusione tra lo skipper che belga e il quechon, chiamato anche duparge dog. Manutenzione e cura. Gli skipper che prospereranno con cibo per cani di qualità. Qualsiasi dieta dovrebbe essere appropriata per l'età del cane. Alcuni cani tendono ad essere in sovrappeso, quindi tieni d'occhio l'apporto calorico e il livello di peso del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Rivolgiti al tuo veterinario, se hai dubbi sul peso, o sulla salute del tuo cane. L'acqua pulita e fresca dovrebbe essere sempre nella ciotola. Gli spedizionieri sono cagnolini molto attivi, energici e impegnati. Una passeggiata quotidiana gonfiabile, o un gioco rumoroso nel cortile recintato forniranno l'attività fisica necessaria. Amano giocare ed esplorare e prosperano in famiglie, che hanno il tempo, e la pazienza per educarli adeguatamente. Lo skipper che può, anche sfogarsi mentre corre per casa o appartamento. A causa della loro propensione alla guardia, i caricatori possono trasformarsi in imbonitori se non vengono insegnati diversamente. Sono ugualmente felici in un appartamento, o in una casa con un ampio cortile, dovrebbero essere tenuti al guinzaglio quando non sono in un'area recintata e dovrebbero essere portati a lezioni di obbedienza. Sono indipendenti e difficili da addestrare. Con proprietari persistenti e pazienti, possono imparare quasi tutto ed eccellere in sport come l'obbedienza e l'agilità. Alcuni sono anche bravi a pascolare. Lo skipper che non necessita di manutenzione costosa o eccessiva. Tuttavia, questa razza perde moderatamente, è meglio usare un pennello che possa raggiungere il sottopelo. La spazzolatura settimanale regolare è solitamente sufficiente per mantenere il mantello in buone condizioni. I capelli intorno al collo sono arruffati naturalmente. Gli spedizionieri possono soffiare via la loro pelliccia fino a più volte all'anno, e di solito le femmine più spesso dei maschi. Quando ciò accade, perdono il loro sottopelo. I proprietari di solito, trovano utili bagni caldi durante questo periodo per rimuovere il sottopelo. La muta può richiedere diversi giorni o settimane e il recupero può richiedere fino a 2 marzo mesi. Salute. Gli spedizionieri sono generalmente cani sani e gli allevatori rispettabili controllano il loro allevamento per problemi di salute come l'usazione della rotula, malattia di leg calvepertes, problemi all'anca, problemi agli occhi e problemi alla tiroide. Gli allevatori possono anche testare la mucopolisaccaridosi di tipo terzo, una malattia recentemente scoperta e mortale che di solito si manifesta, come uno squilibrio all'età di 2 aprile anni, ed evitare l'insorgenza della malattia identificando i portatori, e diluendoli di conseguenza. Visite veterinarie regolari per controlli e controllo dei parassiti aiutano a garantire una vita lunga e sana per il tuo cane. Prezzo e come acquistare correttamente. Puoi comprare un cucciolo di Schiperche dal canile per 1000 dollari. Linea di fondo. Schiperche è una razza di cane. Allevato in Belgio. Questo è un cane da pastore di piccola taglia, ma di costituzione robusta. La testa è a forma di cuneo con cranio ben sviluppato e muso piuttosto corto. Il corpo è ben equilibrato, corto, piuttosto ampio e tozzo. Lo Schiperche ha un mantello caratteristico. Molto folto e rigido, forma colletto, criniera, balsa e pantaloni, che ne rendono unico il contorno.